Siamo fermati qui vicino a Rio Maggiore, questa è una delle 5 terre, questa si non lo vedete là sotto, la strada va più alto, ma vi volevo far vedere, andiamo a farvi vedere il sistema, questa specie di trenino che è veramente su una monorotaia, loro lo usano per portare i carichi, perché qui purtroppo le pendenze sono tremende, allora vedete montano su uno che guida, monta qua sopra e poi va in controluce però su queste rotaie e qui sale verso la montagna, verso là dove vedete il sole, la pendenza è assurda qua, quindi ovviamente per portare i carichi è difficilissimo, proseguiamo per Vernazza, tra delle 5 terre, solo che bisogna fare almeno un chilometro a piedi, aspetta che passa la macchina, un attimo che passa, ma al ritorno prendiamo questo, perché sennò è un chilometro a salire, che è troppo, a scendere è facile, a salire è troppo, un vecchio mulino qui vicino a questo corso d'acqua, non funziona più però ha il suo perché, finalmente siamo arrivati, una bella discesa, poi a ritorno ci informiamo per il pulmino di ridurre. ci sono varcheggiate le barche grazie a tutti e le navette, il pulman passava fra oltre mezz'ora, quindi non valeva la pena di aspettarlo, e quindi ci stiamo facendo un chilometro in salita, e pazienza, arriveremo stravolti a stasera. ciao a voi va ciao a voi 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 ciao a voi